todo modo multi solution travel e hotel a terra d'ostuni istituto di vigilanza sicurità spuglia scegli 30 40 imprese costruiamo la tua solida realtà iper simpli l'ipermercato più vicino a te una olympic cinica e determinata porta a casa e soprattutto in classifica altri tre punti contro un monopoly che non ha mai gettato la spugna coccivito basile in tribuna per scontare il turno di squalifica si affida al quintetto iniziale consolidato già dalle prime battute del campionato scendono infatti in campo busunda lisi solidoro ferri e salamida al pronti via e come sempre vantaggio stuni lo schema è chiaro il marcatore sempre lo stesso solidoro poggia per lisi che trafigge il portiere per l'uno a zero il monopoly non ci sta e dopo due minuti pareggia con parago che sfrutta al massimo il passaggio di un compagno e fa uno a uno al quindicesimo è ancora olympic protagonista schiavone da calcio d'angolo in vita di giuseppe ad andare in rete il numero 13 non si fa trovare impreparato e mette dentro per il momentaneo 2 a 1 al ventottesimo arriva nuovamente il pareggio del monopoli l'apertosa servito da calcio d'angolo segna il 2 a 2 al trentottesimo il vantaggio dello stuni con ferri che sfrutta al meglio il tiro libero 3 a 2 con le immagini di alessio casarano passiamo alla ripresa il monopoli entra in campo più determinato e pareggia con la neve che mette a segno la rete del 3 a 3 poco dopo il dodicesimo gli ospiti passano in vantaggio l'olimpic si rimette in careggiata e al sedicesimo riagguanta il pareggio con capitano schiavone che ben servito mette dentro la rete del pareggio 4 a 4 al trentunesimo buca la rete danilo salamida che carica il destro e segna la rete del vantaggio per i padroni di casa 5 a 4 partita in discesa per i gialloblu che grazie alla rete di ferri lanciato dalla destra in sacca il 6 a 4 il match si conclude con una bella rete di danilo salamida che segna la sua doppietta personale con un pallonetto che fa 7 4 nello salamida una doppietta che fa trionfare questo olympic partita molto ostica però insomma margine di vantaggio importante quest'oggi si sapevamo che incontravamo diciamo una squadra esperta comunque da da tanti anni c1 sapevamo che dovevamo fare una grande partita e così è stato l'anima è un grandissimo gruppo quest'anno lo dicevamo con vittorio schiavone l'altra sera quando avete vinto contro il san vito c'è un'armonia particolare c'è voglia di vincere c'è voglia di fare bene poi insomma c'è anche una tifosiera che si sta riavvicinando a questa squadra la cosa è molto importante sì sì la cosa positiva è che ho potuto notare che oggi al palazzetto c'era davvero tanta gente questo vuol dire che stiamo lavorando nella direzione giusta la gente si sta appassionando e penso che tra virgolette si veda anche il lavoro nostro dietro le quinte nel senso ogni allenamento ogni partita comunque qualsiasi mio compagno getta il sangue quindi stiamo creando un davvero un bel gruppo in tribuna sei fermo immobile puoi dare poche indicazioni alla squadra quindi si soffre forse tre volte di più risultato sicuramente meritatissimo da parte della sua squadra che sta continuando a migliorare ecco questi miglioramenti sono dovuti a che cosa come dico sempre ci siamo sentiti già due tre volte solo il lavoro può far crescere la squadra e si vede settimana dopo settimana perché comunque in settimana lavoriamo duramente per poi cercare il sabato di esprimere tutto quello che facciamo in settimana quindi più persone riusciamo a far ruotare meglio è per per essere più lucidi durante tutta la gara per quanto riguarda la crescita e spero ci sia una crescita continua fra poco inizia la coppa è un tutto la squadra va di pari passo con la società quindi ancora è presto perché giochiamo il 30 ottobre se non sbaglio quindi buttiamoci ancora dentro al campionato perché dobbiamo recuperare qualche punto perso nelle prime giornate